ciao a tutti e benvenuti nel nostro programma andrà tutto bene io sono adri io sono ale vi ringraziamo perché come sempre ci state seguendo in tantissimi la novità di oggi è che siamo in trasferta e quindi io ho deciso di non partecipare io sono gabrie e io sono elencio oggi faremo dei fiori di pancadè visto che siamo in trasferta iniziamo visto che sono in trasferta con ale e gabrie farò insieme a loro i fiori di tamisano gli ingredienti sono ci servirà un vasetto prosciutto cotto e ketchup e maionese poi pomodorini una forma e dei sussicadenti inoltre tramezzini e basilico bene iniziamo subito adesso inizierò ad aprire i tramezzini e a fare le forme io taglierò i pomodorini io taglio il prosciutto abbiamo tagliato tutto alessia ha tagliato il prosciutto cotto io ho tagliato i pomodorini e gabriella ha tagliato i tramezzini bene procediamo metto la maionese sopra i tramezzini tagliati poi lo passo ad alessia forse è un po' esagerato poi lo passo ad alessia e io aggiungo il prosciutto poi lo passo a gabriele e ora lo andiamo a chiudere ecco a te Ale io prendo lo spizzicadente lo metto in questo modo metto il pomodorini in questo modo poi metto questa sorta di panino così qui ed infine metto in questo modo salgo tutto su il nostro vasetto di fede di bocca re è pronto assagguito assaggiamo assaggiamo Grazie a tutti.